Monza, A.G., di Gregorio, Juve bloccata da Scesni. Vale circa 20 milioni. Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito di Gregorio. Alla Juventus c'è Scesni che ha un altro anno di contratto a 6,5 milioni di euro all'anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all'estero, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque. Alberto Belloni, agente di Michele di Gregorio, parla così del futuro del portiere del Monza. Lazio, ufficiale il rinnovo di P.R.O.V.E.D.E.L. Ivan Provedel ha rinnovato con la Lazio fino al 2027. La SS Lazio è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Ivan Provedel. Arrivato nella capitale nell'agosto 2022. In breve tempo l'estremo difensore classe 1994 si è ritagliato, a suon di duro lavoro e altissime prestazioni, un ruolo di primordine all'interno della formazione guidata da Mr. Sarri. Ha concluso la prima annata in bianco celeste con un totale di 45 presenze e 22 clean sheet, ricevendo anche il premio come MVP miglior portiere della serie A Team 2022-2023. M.O.Y.S., il West Ham mi ha offerto il rinnovo, M.A. Ho avuto ottime conversazioni con i proprietari. Mi hanno offerto un nuovo contratto, ma ho deciso di voler aspettare la fine della stagione. Così in conferenza stampa David Moyes, tecnico del West Ham, che recentemente è stato contestato dai tifosi degli Emmers. T.U.C.H.E.L. Non sono io l'unico problema del Bayern. Non sono io l'unico problema. Thomas Tuchel ha annunciato, insieme col Bayern Monaco, che a giugno chiuderà la sua esperienza in Baviera con un anno di anticipo rispetto al suo contratto. E ora che si sente libero, di fare e di parlare, promette scelte più spericolate. Il tecnico tedesco, a lungo sotto i riflettori dei media locali per il rischio di un esonero. Ha parlato della sua situazione alla vigilia della partita di Bundesliga con l'Ipsia, occasione per ripartire e accorciare sul Bayern Leverkusen, in testa con otto punti di vantaggio. Torino, LA Premier League tenta Bellanova. Raúl Bellanova potrebbe essere l'uomo mercato del Torino in vista della sessione estiva. Il Torino dovrà fare i conti con le richieste provenienti dall'estero, e in particolare dalla Premier League con l'Aston Villa che si era già fatta avanti per il difensore Granata. Secondo tutto mercato web, in corsa ci saranno in corsa anche altri club così come qualcuno di Serie A. KI lunga A e R via dal Milan. A gennaio poteva trasferirsi al Fenerbas. A pochi mesi dalla scadenza del contratto, Simon Chiar avrebbe potuto lasciare il Milan. Le offerte non sono mancate a partire dal Fenerbas che è a gennaio molto vicino al danese a gennaio, ma che ha ricevuto un netto di niego come riportato da calciomercato.com. Bologna. Z-I-R-K-Z-E-E. Non penso al futuro, esiste solo L-I-Gara con il Verona. Il Bologna potrebbe perdere in estate Joshua Zirksi, ma nel frattempo l'attaccante Rosso-Blu, pensa soltanto al presente per aiutare la propria squadra a raggiungere la Champions League. La conferma arriva da un'intervista rilasciata dall'olandese al Corriere della Sera che spazza via ogni dubbio. Non ci penso proprio al futuro. Per me esiste solo la partita con il Verona, ha spiegato Lapidario Zirksi. Arsenal, pronti 40 milioni per Y-I-L-D-Z. Dalla Turchia arriva una nuova indiscrezione di mercato su Kenan Ildiz. Secondo quanto riportato da Aksham, dopo Liverpool e del Borussia Dortmund, anche L-Arsenal sarebbe molto interessato al classe 2005 della Juve. Per portare l'attaccante bianconero o l'Emirates questa estate sarebbero già pronti 40 milioni di euro. Orsolini risponde sul futuro di Tiago Motta. Il problema che guardate già al dopo. Riccardo Orsolini ha i piedi ben piantati per terra. Il giocatore del Bologna ha parlato del futuro della squadra e del tecnico Tiago Motta in un'intervista al Corriere dello Sport, rispondendo a coloro che vedono l'Italo-Brasiliano lontano dall'Emilia. Gli avete chiesto di restare? Vedete? Voi guardate già al dopo. Non è un problema di adesso, e comunque non lo posso dire io. È una cosa che va oltre la mia sfera calcistica ha spiegato Orsolini. Chi pensa a lungo termine sbaglia. In questo momento dell'anno purtroppo non si possono fare piani futuri. Questo non è il momento. Niente lecco per Cassia, passa le notte in aeroporto e torna in Spagna. Chico Cassia poteva diventare il grande colpo dell'ecco, tuttavia i tentennamenti dei manzoniani hanno spazientito l'ex calciatore del Real Madrid che ha deciso di lasciare l'Italia. L'estremo difensore ha affrontato le visite mediche e il primo allenamento con i nuovi compagni, ma il club Lombardo si è riservato di rivalutare le sue condizioni nella giornata di lunedì. Come riportato da tutto mercato web, Cassia ha lasciato quindi l'albergo e ha trascorso la notte all'aeroporto di Orio Alserio in attesa di prendere il primo volo per la Spagna. Retroscena Roma, in estate Mourinho provò a diacquistare Lloris. Niles Villar è stato l'eroe della serata della Roma contro il Feyenoord il quale, grazie ai due rigori parati, ha consentito ai giallorossi di volare agli ottavi di finale di Europa League. L'estremo difensore ha però rischiato di andarsene in estate insieme al collega Rui Patricio a favore di Ugo Lloris, oggi ai Los Angeles Galaxy. José Mourinho chiese alla società l'approdo del francese, tuttavia la società pose un veto sui portieri come riportato da tutto mercato web, e ciò bloccò definitivamente la situazione. HUI Lunga SEN? LA Juventus chiede 30 milioni, LA Roma punta sul prestito oneroso. Dean Wiesen si è ormai preso a tutti gli effetti la Roma grazie a prestazioni superlative che lo hanno reso un titolare fisso per Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso lo vorrebbe trattenere, ma il danese ha già firmato un rinnovo di contratto con la Juventus sino al 2028 che ha fissato il prezzo per una sua eventuale cessione, 30 milioni di euro oppure rimarrà a Torino. Come riportato da Calciomercato.com la squadra capitolina vorrebbe trattenerlo e quindi punterebbe a un nuovo prestito oneroso, a cifre decisamente più alte rispetto ai 650 mila euro attuali, ridotti a 400 mila al superamento delle 10 presenze. Retroscena Bonaventura. A gennaio LA Juventus aveva offerto 3 milioni. La Fiorentina sta lavorando per il rinnovo di Giacomo Bonaventura, tuttavia emerge proprio in queste ore un retroscena riguardante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da tutto mercato web, il calciatore Viola avrebbe ricevuto una proposta dalla Juventus attorno ai 3 milioni di euro che non avrebbe però convinto il giocatore offensivo. Juve. Per Allegri e Rabiot destini incrociati. In casa Juventus la qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante per i piani sul mercato e non solo. Tanti denari potrebbero arrivare dalla partecipazione al mondiale per club in programma nel 2025. Al momento i bianconeri sono in vantaggio sul Napoli nel ranking UEFA. Se arriverà il pass, ecco che la conferma di Allegri e Rabiot diventerebbe più probabile. I due, scrive il Corriere dello Sport, hanno il destino legato. Lazio. Messaggio di Sarri all'Otito. Confermiamo questo gruppo. Subito dopo il successo della Lazio a Torino nel recupero di Serie A, Maurizio Sarri si è focalizzato sulla prossima stagione mandando un messaggio chiaro all'Otito. Questo gruppo mi dà la sensazione di essere in crescita, speriamo che sia confermato per la prossima stagione le parole del tecnico toscano Adazon. Così non dovremmo ripartire ancora da zero com'è successo in questi anni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.